Con i nostri ospiti mi hanno raggiunto in studio Cristina Bauerman, chef stellata, buongiorno e bentrovata, Dino Mastrocola, rettore dell'Università di Teramo, bentrovato, rettore Matteo Anzanelli, direttore dell'Associazione dei Giovani Agricoltori della CIA. Insomma, abbiamo tanti temi, poi chiedo alla regia di dirmi se abbiamo pronta in collegamento anche una nostra giovane ospite da Torino. Eccola qui, eccola qui, Martina Comparelli, Martina tu sei a Torino dal camp, giusto, dal raduno dei Fridays for Future. Fra un attimo sono da te, ma intanto vedo pronta la nostra inviata, San Rocco, tu sei a Rieti, abbiamo visto quelle immagini del maltempo, quelle piogge violente, quelle grandinate che hanno fatto parecchio male alle colture hanno interessato anche quella zona lì, è così? Sì, purtroppo è quello che è accaduto proprio ieri sera, buongiorno Elisabella e buongiorno a tutti, è quello che è accaduto nella tarda serata di ieri, un violento temporale, una forte grandinata, che purtroppo ha distrutto anche il raccolto di coloro i quali stanno coltivando i terreni di questa zona. Ecco, qui accanto a me c'è proprio il proprietario di questo terreno in cui ci troviamo in questo momento, Luca Rando, che è un agronomo. Parliamo subito del maltempo, di quello che ha causato appunto ieri sera. Sì, purtroppo ieri sera è arrivata una bruttissima grandinata e come si sa, quando arriva con il grande caldo arrivano i danni. Quello che poi dà molto fastidio è che, oltre al reddito che si va a perdere, si va a perdere anche la ricerca, perché in questa zona faccio sperimentazione di diverse varietà e come vedete si vedono proprio le piante qui, in questo caso piante di zucchine che ormai sono andate, non daranno più il risultato che devono dare, però questi sono i cambiamenti climatici e questi sono i risultati della scelerità che ha fatto l'uomo. Ecco, parliamo proprio di questo, della scelerità, dicevi, che ha fatto l'uomo. Per te è importante produrre dei prodotti, coltivare dei prodotti rispettando l'ambiente, quindi prodotti sostenibili. Questo è quello che fai da diversi anni, da circa dieci anni. Per te è importante rispettare l'ambiente e rispettare la salute. Su questo terreno ne vediamo diversi tipi di pomodori, qualità di pomodori, così come vediamo dei grani antichi, grano saraceno. Sì, e appunto in questo territorio, il territorio di Rieti, la Valle Santa, che secondo me è un territorio speciale a livello organolettico, ambientale, di aria, ho scelto appunto di fare queste coltivazioni. In questo caso ho scelto da molti anni, seguo il discorso dei grani antichi, che sono il tornare indietro, perché il tornare indietro certe volte non è abbandonare il futuro, ma è ricordarsi di quello che siamo noi, perché andare troppo avanti non è per l'essere umano. L'essere umano ha i suoi tempi, come la natura. Noi abbiamo aumentato i tempi e si vedono i risultati purtroppo a livello alimentare, quindi questi grani inoltre ecosostenibili. Per il discorso anche piante che non hanno bisogno di diserbi, perché comunque sono piante alte, piante che non prendono malattie o poco niente, e quindi non abbiamo bisogno di sistemi chimici. Aiutiamo l'ambiente, aiutiamo gli insetti impollinatori. Fermiamoci un attimo, perché abbiamo raccolto tante informazioni dal tuo ospite, abbiamo parlato di sostenibilità. Rettore, che significa parlare oggi di cibo, ambiente, sostenibilità? Significa fare un discorso globale. Noi non possiamo parlare di cibo soltanto avendo l'uomo come riferimento, ma quando parliamo di sistema dobbiamo pensare ad un cibo ovviamente buono per l'uomo, ma soprattutto buono anche per il pianeta. Quindi delle tecniche di coltivazione e delle modalità di approccio che siano rispettose dell'ambiente e ovviamente della qualità del cibo che andiamo a consumare. Quindi sostenibilità va declinata in tutta la filiera, quindi dal campo fino ovviamente al piatto. Quindi tecniche agricole appropriate, gestione anche del post-raccolta. non dimentichiamo questo mondo molto molto ampio che significa anche poi la trasformazione, la conservazione del cibo, il consumo fino ad arrivare ovviamente al problema ormai molto molto sentito dello spreco alimentare. E ha detto piatto io andrei da Cristina Bauermann, lo guardate immediatamente. La sostenibilità è uno degli ingredienti anche della sua cucina? Sì, la sostenibilità ormai è diventata una necessità. Da anni io sono sempre stata sensibile al tema, ma ormai è diventata una necessità da parte di tutti coloro che lavorano nel mio mondo. Noi vorremmo essere il braccio armato dell'agricoltura, noi vorremmo davvero continuare a sensibilizzare su questo problema della sostenibilità che consiste poi, perché la domanda alla fine che uno si fa è come chef, come posso aiutare? Per esempio, una cosa che mi è venuta in mente in questo istante, io sono stata presidente di un'associazione nazionale per sei anni e uno dei progetti che ho portato avanti si chiamava Adotta un produttore. Significa praticamente che ogni chef non soltanto riconosceva un prodotto locale, ne parlava, quindi diciamo così assolveva quella funzione educativa, però poi la utilizzava nel proprio ristorante, quindi supportava concretamente durante il periodo della pandemia, è stato particolarmente utile a moltissimi piccoli produttori a continuare a sopravvivere. Questo è uno dei piccoli progetti, uno delle azioni concrete, perché noi compiamo una scelta così politica ogni volta che acquistiamo qualcosa e quindi utilizzare dei prodotti che sono sostenibili di per sé, conoscere il produttore, aiutare quel produttore, quel contadino, sicuramente fa parte di quello che vogliamo continuare a fare, anzi ad aumentare il nostro spettro di azione. È un impegno. Professor Remuzzi, ma davvero noi possiamo contribuire alla salute del pianeta attraverso un'alimentazione corretta? In che modo? Che significa? Ma guardi, c'è un bellissimo lavoro sull'ANSET che fa vedere come ogni alimento è associato a un determinato consumo di CO2, cioè di anidride carbonica, a una determinata produzione di anidride carbonica, a un determinato consumo di suolo, a una determinata produzione di fosforo, acidificazione degli oceani. Se noi mangiamo in un certo modo piuttosto che in un altro, siamo capaci di ridurre in modo importante, pensate che soltanto l'agricoltura consuma il 30%, determina il 30% delle emissioni di gas serra provocata dall'uomo e il 70% dello sfruttamento delle risorse idriche e rappresenta la causa primaria della deforestazione, della ridestinizazione dell'uso di altri terreni, della perdita della biodiversità, dell'inquinamento idrico, del consumo di acqua. Ecco, se noi facciamo un'agricoltura che adesso con un termine di moda, come avete sentito, si chiama sostenibile, cioè un'agricoltura attenta agli alimenti che non hanno un impatto negativo sull'ambiente, allora riusciamo a ridurre in modo molto importante l'inquinamento ambientale e quindi come mangiamo è un determinante fondamentale non solo della nostra salute e della prevenzione delle malattie, ma anche della salute del pianeta. Matteo Anzanelli, come si tengono insieme tutti questi elementi, l'attenzione alla nostra salute, al benessere del pianeta, quindi la sostenibilità? E però abbiamo visto anche che l'agricoltura soffre per quelle che sono poi le conseguenze del cambiamento climatico. Questa è una sfida, diciamo che come agricoltori siamo chiamati a raccogliere una sfida determinante che può essere vinta soltanto con una grande alleanza e l'alleanza va fatta con tutti i cittadini. Vorrei entrare in una piccolissima definizione di sostenibilità. Noi pensiamo sempre all'ambiente, ma la sostenibilità in realtà si regge su tre gambe. La sostenibilità ambientale, quella economica e quella sociale. E quando diciamo queste cose, ovviamente che abbiamo fatte nel DNA della nostra associazione, che è da sempre impegnata su questi temi, pensiamo al fatto che gli agricoltori vivono su un territorio, produrono dei prodotti, nel vivere in quel territorio garantiscono la sicurezza del territorio stesso, ma soprattutto continuano a far vivere delle comunità nei territori rurali. Quindi attenzione, diciamo così, a generalizzare sul tema dell'agricoltura inquinante, perché l'agricoltura in realtà ha ambiti ampi, e il nostro Paese ne è un esempio virtuoso, di sostenibilità sociale, di conservazione della biodiversità, cito soltanto le varietà di olio che abbiamo, i cultivar di olio che abbiamo in Italia, sono oltre 500, quasi 600. Quindi diciamo così, noi non abbiamo semplificato. Noi abbiamo un Paese che per clima, per condizioni orografiche, eccetera, tende a diversificare in modo enorme. Questa diversificazione è una forza, e peraltro è anche un valore riconosciuto in quella che noi definiamo la sostenibilità. Quindi, una cosa importante, gli agricoltori hanno, diciamo così, un compito, portare un reddito a se stessi e alle proprie famiglie. Quindi produrranno tutto quello che chiede, diciamo, il mondo per nutrirsi. E giriamo questa riflessione con la domanda, appunto, su quanto sia difficile questa sfida. Maria Grazia Sarrocco, al tuo ospite. Maria Grazia, in un minuto e mezzo, è una sfida davvero notevole quella che oggi devono affrontare gli agricoltori, gli imprenditori del settore. Portarsi in avanti, insomma, essere lungimiranti. Voglio chiedere, ma vi sentite soli oppure siete accompagnati in questo percorso? Ma, diciamo che, appunto, anche come agronomo e quindi parlo con diverse aziende, per certi versi ci sentiamo soli, per certi versi accompagnati. Certi versi soli perché? Perché si cerca delle volte e si fa tutt'erbo un fascio. Come diceva il dottor Ransanelli, attenzione, noi abbiamo tantissime varietà, tantissime realtà, tantissime realtà anche di popolazione in Italia. Quindi ci vorrebbe una maggiore unione e una maggior forza dal mondo politico, soprattutto per dare una spinta. Si parla sempre di tante cose, ma ricordiamoci che l'Italia è agroalimentare, l'Italia è qualità, l'Italia è amore per la propria terra, a differenza di molti altri paesi che vanno solo sulle industrie, sulle grosse produzioni. Amore per il proprio paese e per la terra. Martina Comparelli, i giovanissimi di questo amore ne hanno tanto per la terra, i Fridays for Future. Martina, che cosa state mangiando lì al camp, al Climate Social Camp a Torino? State pensando anche un po' all'ambiente, ovviamente? Beh, assolutamente sì. Tutta la nostra alimentazione è vegana, tutto il menù del camp è assolutamente vegano, quindi questo vuol dire che non si usano prodotti animali e la nostra scelta è dovuta non solo a una, non è solamente etica, anzi, è soprattutto scientifica. Bisogna considerare gli impatti della carne, come è stato già detto, sotto tanti punti di vista. non si parla solamente di emissioni, si parla anche di consumo di acqua, un chilo di carne può fare fino a 5.000 litri d'acqua e noi siamo in crisi idrica in questo momento. Piuttosto che dirci, non facciamoci la doccia, forse dovremmo non solo consumare meno carne, ma disincentivarla, promuovere, per esempio, più agricoltura e più sostenibili e vegetali. Anche perché noi stiamo parlando di un prodotto che usa tanta agricoltura e tanti prodotti solamente per i mangimi. Pensiamo per esempio alla coltivazione di soia, il 70% della coltivazione di soia va ai mangimi per il bestiame che poi noi mangiamo. Martina, che colazione avete fatto questa mattina? Noi questa mattina banalmente beviamo appunto latte di soia, cappuccino, è una colazione totalmente normale perché è davvero semplice alimentarsi in modo diverso, però abbiamo di fronte a noi delle scelte politiche che devono permettere a tutti di alimentarsi in questo modo. Se banalmente il latte di soia costa molto di più del latte vaccino, la persona che arriva con fatica a fine mese anche per l'inflazione che stiamo vivendo, come fa a fare questa scelta? Grazie Martina. Insomma, hanno le idee molto chiare questi giovani. Anche io però. Cristina Bavoro. Sostenibilità, però insomma bisogna fare un pacchetto che incontri la realtà. Questo mi pare che sia il suo pensiero. Allora, cercherò di essere breve e soprattutto di astrarre un concetto. Bisogna evitare di creare il mito del consumatore verde, praticamente sbolognare, diciamo così, tutte le responsabilità del cambio e della sostenibilità solo sul consumatore. Ci deve essere un'alleanza, come diceva il professore, ci devono essere delle leggi che aiutino la parte dell'agricoltura e anche del consumatore a creare appunto questa alleanza per la sostenibilità. Però è anche vero che passare da una dieta che è quella mediterranea, che è considerata la migliore o comunque è seguita da tutti per mediterranea, io non parlo di quella italiana, parlo proprio della mediterranea, ad una dieta che invece è vegana, che non fa altro, che secondo a mio parere è modestissimo, allontana ancora di più la gente perché vede come un, come posso dire, una meta irraggiungibile diventa veramente difficile. Anche perché poi diventa per me difficile mediare l'utilizzo di soia in Italia che non è una produzione, tra le altre cose io personalmente, ma come tante altre donne, la soia non la possono mangiare, quindi diciamo che dobbiamo ottenere una mediazione. Occorre trovare un equilibrio, come in tutte le cose, d'accordo Rettore? Assolutamente sì, non si può prescindere da questo e l'altro aspetto è, ovviamente parlo da universitario, è formazione e ricerca, che poi insomma è quello che facciamo quotidianamente. Ne fate tanta all'Università di Teramo? Ma assolutamente sì, perché poi la formazione universitaria deriva direttamente dalla ricerca e quando parlo di formazione non possiamo soltanto parlare in modo astratto di sostenibilità, la sostenibilità la dobbiamo inserire anche nei nostri corsi di laurea, nei nostri percorsi formativi e soprattutto non si può prescindere dall'idea della filiera produttiva, quindi torno a dire non scindiamo il campo dal piatto, come diceva giustamente Cristina. Chiarissimo, sono le 7.46, vi aggiorno brevemente, ci sono delle notizie dell'ultima ora, innanzitutto sul fronte degli incendi, sapete che nelle scorse settimane in Friuli ci sono stati dei roghi davvero spaventosi che hanno impegnato migliaia di uomini, vigili del fuoco, nella notte sono state evacuate altre 25 famiglie, siamo nella frazione di Savogna, di Udine, perché si è riacceso un focolaio, nuovamente un incendio, e poi ultime notizie anche sul fronte della guerra in Ucraina, le forze russe hanno sferrato un nuovo attacco missilistico e siamo nella regione di Kiev, ma quest'oggi vi dico anche che sul fronte della politica la corsa verso le elezioni del 25 settembre è in programma questa mattina la direzione nazionale del partito di Fratelli d'Italia. Allora, a questo punto io devo salutare, il tempo non è mai abbastanza, devo salutare i miei ospiti, però è davvero molto molto interessante, insomma abbiamo avuto tante voci in questo dibattito sul cibo, sulla sostenibilità. Grazie a Dino Mastrocola, rettore dell'Università di Teramo, grazie a Cristina Bauerman, poi ci rivediamo qui per dare anche qualche ricetta di colazione sostenibile, però appetitosa, diciamolo buona. Grazie anche a Matteo Anzanelli, giovani della CIA Agricoltura e ringrazio anche il professor Giuseppe Remuzzi che era in collegamento con noi, direttore dell'Istituto Mario Negri. Grazie professore, ci rivediamo presto per approfondire anche questo... Grazie, grazie a voi. ...questo nostro tema. E quando sono le sette...